3 milioni di euro e questo l'importo finanziato dalla regione per la manutenzione di 8 corsi d'acqua in provincia di Agrigento attraverso degli interventi di pulizia dell'alveo, risistemazione degli argini e ripristino della sezione idraulica si cercherà di limitare le conseguenze del rischio idrogeologico e le possibili esondazioni in caso di eccezionali eventi atmosferici. Lavori che si inseriscono in un piano di pulizia e messa in sicurezza dei fiumi e torrenti in tutta l'isola e che si aggiungono i 22 interventi già effettuati sempre nell'Agrigentino tra il 2020 e il 2021 dal Genio Civile. Sono 7 dunque i cantieri già avviati dal Dipartimento regionale tecnico attraverso il Genio Civile prevedendo nella conclusione entro il mese di settembre e uno partirà nelle prossime settimane. I corsi d'acqua interessati sono il fiume Imera Meridionale, l'Ipsas tratto Grotte Agrigento, il Vallone Cannatello Agrigento, il canale Fiume Vecchio Licata, i torrenti Finocchio Menfi e Canzalamone Sciacca e i due nuovi tratti dei torrenti della Palma e Mollarella sempre a Licata.